Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi un inedito video di domenica perché insomma mi è venuto l'idea di fare questo video in più noterete che sono in tenuta tra virgolette da gara nonostante faccia un freddo canne, infatti vedete felpa da sotto ma indosso la maglia del mio team Yexid che avrete sicuramente avuto modo di conoscere maglia che devo dire la verità è veramente tanta tanta roba, una delle più belle sicuramente a mani bassissime del panorama esport e a tal proposito abbiamo ricevuto la possibilità di poter vedere la nostra maglia in game c'è questa votazione, ci scontriamo contro dei colossi che hanno avuto supporto anche di calciatori eccetera ma noi non molliamo quindi vi lascio il link per la votazione qui nel box dei commenti quindi mi raccomando andate a votare per avere questa maglietta in game perché veramente sarebbe la svolta in quanto sarebbe sicuramente una delle maglie più belle del gioco passiamo a quello che invece è l'argomento poi di questo video ossia voglio andare oggi a parlare insieme a voi di quelli che sono i migliori terzini da giocare fuori ruolo in quello che è un meta sempre più indirizzato nello spostare i terzini da dc, i terzini da mediani, i terzini da questo e da quello andiamoci a vedere quelli che sono i migliori per fare questo da ovviamente una fascia di prezzo più alta ad una più, un po' più entry level considerando che comunque sono giocatori che costano perché ovviamente sono talmente rari e funzionali al gioco che ovviamente il loro prezzo è salito quindi senza perderci ulteriormente in ciancere andiamo subito sul primo giocatore che chiaramente è Alfonsino Davis nella sua versione da terzino sinistro Toti parliamo ovviamente di una carta illegale, un metro e 81 alto normale, 4-4 velocità insomma non si potrebbe fare di meglio, ha anche un ottimo tiro passaggio corto clamoroso, il lungo si poteva un pochino aspettare qualcosina di meglio super parametri di agilità, super parametri di difesa, super parametri per quanto riguarda forze e aggressività per quella che è una carta che se fosse stata di Premier League sarebbe andata sui 3 milioni a mani basse se avesse linkato Neymar ne sarebbe costati 4 invece è una carta di Bundesliga quindi questo magari gioca lievemente a suo sfavore però calcolate che adesso ci sono tante carte interessanti che stanno ricevendo anche gli upgrade dalla Champions League Closterman, Nagangi, penso a un Goretzka Headliner a centrocampo quindi carte per poterlo linkare ci sono chi andrei a spostare magari andando a mettere lui da difensore centrale magari si può mettere un Closterman a fare il terzino banalmente questo qui è veramente troppo sprecato per fare il terzino, veramente troppo merita per me di occupare porzioni di gioco molto più importanti quindi da DC si sente un giocatore così raga perché vi recupera contro chiunque con l'avvento dei Toti, Vali Ronaldo, Mbappe eccetera questo non ne fa passare uno e in più un altro ruolo che fa benissimo è il mediano quindi anche lì magari è un po' più difficile andarsi a giocare la switchata da mediano su terzino cosa che invece è molto più semplice fare all'inverso però qualora lo riuscite a linkare anche da mediano questo fa assolutamente la sua figura data la sua agilità quindi salutiamo Alfonsino e andiamo dal buon Alexander Arnold Toti anche qui parliamo di un ottimo giocatore un metro e ottanta, alto normale, 3 di skill, 4 piede debole riceve il solito boost della sua versione Toti molto veloce, ha anche una buona potenza tiro però non accompagnata da una buona finalizzazione in questo caso abbiamo passaggi che sono veramente al top in questo caso è lievemente meno agile rispetto a Davis però ha meno forza quindi magari questo comunque va un pochino a fare da contraltare e questa carta risulta abbastanza agile e anche qui parliamo di un giocatore che onestamente io non andrei a utilizzare da terzino ma vedrei molto molto bene switchato eventualmente a fare il difensore centrale o anche in questo caso sia il mediano che il CC quindi per quanto riguarda questo video andiamo ad analizzare più o meno quelli che sono i giocatori che possono ricoprire prettamente questi due ruoli quindi o un ruolo da difensore centrale o un ruolo di mediana e questo qui secondo me lo fa abbastanza bene visto che c'ha anche 4 di piede debole peccato le 3 skill per giocare in mediana però per fare la legna è molto molto funzionale e poi vi ripeto ha anche ottima qualità con i passaggi quindi Filtrantoni ad esempio li fa al top passiamo avanti scendiamo un po' di prezzo ma neanche troppo visto che questo Teo Hernandez ha deciso di salire di prezzo fino allo spazio e non ha intenzione di fermarsi parliamo di un giocatore anche qua devastante 1,84m piede sinistro alto normale di workrate 3-3 mosse abilità piede debole velocità anche qua che ormai ha raggiunto quasi il 99,99 passaggio corto tanta roba e lungo un pochino a me agilità 84 reattività 85 vuol dire che con l'L2 questo si muove benissimo statistiche difensive al top forza 85 aggressività 82 sono assolutamente sono assolutamente lodevoli è ovvio il discorso di questo Teo Hernandez che da terzino come mi avete chiesto tante 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 volte è assolutamente sprecato non lo andrei a utilizzare preferisco sempre sempre un un giocatore alla alla Mendy che porta palla un po' meglio un po' meno bufalo ecco questo è molto più grosso fisicamente motivo per il quale ce lo vedo perfetto a fare il DC DC di conseguenza per esempio una difesa che io avevo ipotizzato era Mendy questo Teo Hernandez Walker più Cancelo quindi una difesa di questo tipo che praticamente non fa passare nessuno questo vi bullizza gli avversari e in più anche per quanto riguarda fase di impostazione se la cava egregiamente quindi promossissimo questo questo Teo Hernandez se qui diciamo fino ad ora non è che avevamo scoperto l'America qui magari c'è qualcuno che era un po' più scettico io vi posso dire che per quanto riguarda la versione DC di questo Rhys James io ne sono totalmente innamorato ragazzi parliamo di una carta che è un metro e ottantadue per cui l'altezza c'è piede destro work rate alto normale 3-3 ma vi assicuro che il work rate non lo sentite anzi spesso e volentieri un quid in più che vi permette di poter recuperare palla alto ma questo è indemoniato è velocissimo ha un ottimo passaggio corto è reattivissimo con l'L2 scivola che non avete idea 80 di aggressività ragazzi è un parametro no fake di più si attacca gli avversari gli morde le caviglie fin quando non gli porta via la palla non ne vuole sapere sta indemoniato è fortissimo lo sto provando da sulle 7 partite in weekend league con un gameplay che c'era oggi che sto registrando che è sabato sabato mattina c'era un gameplay vomitevole lui è stata veramente non lo so la rugiada nel deserto un raggio di sole durante un cielo in tempesta mi sta veramente piacendo un botto come vedete si è intesa ancora io ho dato veramente tanta tanta roba mi piace mi piace un sacco e ve lo stra stra consiglio forse vi dico potrebbe anche essere meglio di di walker non lo so ancora sicuramente è meglio di gomma e zif questo non ci piove però veramente consigliatissimo il buon reese james dal difensore centrale super super approvato così ragazzi come super approvato questo diogo dalot questa qua è una hidden gem pazzesca io l'ho provata per forza di cose sul mio account di play dove ho un road to glory ho dovuto farci delle qualifiche con una squadra un po' esotica e ho sculato questa carta qui nella versione non scambiabile quindi mi sono detto piuttosto che giocare con militao faccio entrare questo dc al primo minuto ma io non l'avessi mai fatto è un difensorone un metro 83 alto normale piede destro 3 di skill e 3 di piede debole non perde un contrasto ha aggressività 88 si attacca agli avversari ha un ottimo passaggio corto ha 86 di agilità quindi vuol dire che con l'L2 scivola che è veramente una perfezione a tal proposito io l'ho trovato molto molto reattivo anche una volta perso il contrasto e avere 86 di agilità vi permette di poter anche cannare un intervento con il tasto del contrasto perché una volta che è andato a vuoto il giocatore è già pronto lì reattivo a girarsi e riattaccarsi all'avversario quindi veramente mi ha stupito sto Diogo Dalot devo dire la verità super promosso costa due spiccioli lo potete anche lo potete anche linkare devo dire la verità super super promosso secondo me in una serie A questo qua per dirvi anche superiore eventualmente a un bastoni eccetera eccetera l'unico modo è capire come switcharlo però devo dire la verità che lui è uno di quelli di questo gruppone che il rapporto qualità prezzo merita solo applausi un altro cartone incredibile è il buon Kleiber questo qua un po' come i primi può fare tutto perché un metro 84 alto normale certo pecca parecchio sia per quanto riguarda discorso di mostriabilità che di piede debole ma è un cristone veloce con un ottimo passaggio corto agilità 85 equilibrio 85 reattività 86 vuol dire che con l'L2 si muove non è eccessivamente piantato forza 90 aggressività 91 ma poi guardate che faccia ingrifata cioè se io questo lo incontro per strada cambio viale cioè voglio dire mi spavento se lo incontro di notte vi assicuro fortissimo io lo uso da super sub nel caso in cui mi viene buttato fuori un dc quindi lo butto dentro da dc il più delle volte ma vi assicuro che l'ho provato anche mediano a fare legna quando metto il 532 per difendermi veramente solo applausi capisco che è una carta che non è più disponibile magari non l'avete fatto e ve ne state pentendo magari ce l'avete nel club e non gli avete mai dato una chance quindi lui fidatevi che se l'avete fatto provatelo perché non ve ne pentirete probabilmente vi innamorerete non lo lascerete più e cercherete un modo per farlo giocare titolare perché veramente è tanta tanta roba un'altra carta che anche qui fa assolutamente il suo se switchato anche in questo caso sia da difensore centrale che da mediano è il buon James Tavernier alto normale 1,80m destro 3,3 veloce veloce passaggi che in questo caso sono entrambi con ottimi parametri è molto 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 agile 90 con 88 di equilibrio può acca un pochino la reattività ma comunque ci siamo aggressività 77 vi assicuro che è un parametro extra fake anche questo perché si ingrifa gli avversari fino a quando non gli strappa via la palla forza 91 anche in questo caso tanta tanta roba che va a condire un po' tutta l'insalata alla perfezione quindi il buon Tavernello che forse riuscirà anche a prendere un upgrade chi lo sa prima o poi veramente consigliatissimo e anche qua parliamo di una carta che secondo me da terzino sarebbe sprecato visto il meta attuale ci vedo molto 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 meglio per quanto riguarda zona di difensore centrale più che mediano e nulla ragazzi per quanto riguarda quindi questo video sui migliori giocatori che possiamo andare a utilizzare fuori ruolo in difesa è tutto io vi ringrazio per essere arrivati fin qua vi ricordo di lasciare un like e un commento iscrivetevi al canale perché stiamo volando e mi fa super piacere in descrizione vi ricordo che trovate le info per tutte le live giornaliere trovate anche le info per la votazione per avere la nostra maglietta quest'anno su FIFA 21 che sarebbe veramente top come cosa e nulla ragazzi a me non resta altro che salutarvi augurarvi una buona giornata un saluto al vostro Riberoski ciao ciao ciao